Mario Alberti, portavoce del forum territoriale del terzo settore dell'area grecanica. A Pasquino Crupi stava molto a cuore il terzo settore, stava molto a cuore la vita sociale, un suo pensiero? Ma diciamo stava molto a cuore l'area grecanica, la Calabria in genere, e a noi tutti, i cittadini di quest'area, deve stare a cuore sia il professore, insomma, io non me la sento di prendermi di confidenza in questo caso, che tutte le sue opere, che penso che sono ancora veramente poco poco conosciute. Ritengo che momenti come questo siano fondamentali per la crescita del nostro territorio, per la coesione, per l'unità e per tutto quello che veramente ci può fare sentire i cittadini dell'area.